Con il presidente Biancazzurro che chiaramente è molto deluso per come è arrivata questa sconfitta. È deluso, quando arrivi ai rigori è chiaro che ci può stare, sbagli o fanno quello di altri, quindi vai fuori o magari passi e vai avanti. Mi dispiace molto per come è andata la partita perché sull'1-0 all'ultimo secondo ci vuole un po' più di attenzione, poi siamo ritornati in vantaggio un'altra volta, stessa problematica. Probabilmente abbiamo anche nelle situazioni di vantaggio smesso, abbiamo voluto un po' gestire, non abbiamo continuato a giocare come chiede il mister. L'unico in campo che si lamentava di questo era Raffià che chiedeva di giocare la palla e noi abbiamo cominciato a fare boom boom e non è il gioco nostro. Un grande peccato perché si era ricreato un ambiente stupendo, qualche addetto lavori, addetto da Serie A. Infatti il grande dispiacere è per questo pubblico meraviglioso che abbiamo riportato all'Adriatico ed è veramente dispiace soprattutto per loro. Presidente, abbiamo chiesto a Zeman se rimane, ha detto vediamo, ne dobbiamo parlare. Il pensiero del Presidente? Ho sempre detto dall'inizio, ne parleremo ma sicuramente c'è la volontà da parte nostra sicuramente, ma credo anche del mister di rimanere. Raffià ha detto poco fa, è l'unico che si lamentava per giocare la palla, Raffià ha fatto una prestazione sontuosa, potrebbe essere però l'ultima in Biancazzurro, la Serie C va troppo stretta a questo giocatore? Forse l'ho ripetuto cento volte in questo campionato da quando è arrivato, Raffià è un giocatore, secondo me in questa categoria è illegale. È evidente che avrà altre possibilità, però adesso abbiamo appena finito questo campionato, quindi aspettiamo qualche giorno e poi vedremo. Mi dà un giudizio su questa stagione, da agosto ad oggi, a giugno con Colombo prima, con Zeman dopo, cosa si sente dire il Presidente? Abbiamo fatto un bellissimo inizio, come tutti quanti voi avevate rimarcato nel primo periodo di mister Colombo, poi ci siamo incartati da soli e poi abbiamo ripreso il nostro cammino facendo veramente molto molto bene fino a oggi, però nelle due partite, in tutte e due le partite, nonostante il vantaggio abbiamo pensato di gestire questa squadra, non può gestire nulla. Nel complesso è contento Sebastiani della stagione? Certo, come si fa a non essere contenti quando arrivi a un passo dalla finale e vedi uno stadio così come quello di oggi del Pescara che obiettivamente è un po' come Raffià, non c'entra nulla in questa categoria. Ecco, le chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio. Dove deve essere bravo adesso il Pescara, dove deve essere bravo lei Presidente a non disperdere questo entusiasmo e a ripartire, non dico con questo pubblico perché credo sia impossibile, ma comunque con tanto entusiasmo? Dobbiamo essere bravi, purtroppo dopo ogni delusione devi mettere un punto e devi ripartire, devi essere bravo a non disperdere nulla, a cercare di migliorarti se è possibile perché questa è una squadra che è difficile anche da migliorare. E' chiaro che dopo una stagione così, dopo un finale in questo modo, probabilmente devi cambiare qualche cosa, devi tener conto di quello che dicevi prima, che tanti giocatori che hanno fatto bene magari ambiscono a qualcosa in più. E quindi dobbiamo essere bravi, deve essere bravo il direttore a trovare le pedine giuste per rifare un campionato importante il prossimo anno. Il Pescara dell'Icarri confermato? Assolutamente sì. Studio per una domanda al Presidente Daniele Sebastiani. Ma velocemente 20.000 spettatori, Presidente buonasera, sono una risorsa di inestimabile valore da cui ripartire, è chiaro che c'è stato l'effetto Zeman, è stato dirompente mi pare, è sotto gli occhi di tutti, quindi sono due risorse da cui ripartire. I 20.000 spettatori e l'effetto Zeman, due risorse da cui ripartire, dice Massimo Profeta. Sì, sì, ma ho detto prima, il grande dispiacere perché noi facciamo calcio, sappiamo che nel calcio ci può stare di tutto e quindi sapevamo anche che ai rigori non ci dovevamo arrivare perché poteva essere sorridere a noi o sorridere a loro. Il grande dispiacere è proprio per la piazza, per il pubblico, per i tifosi perché si erano riavvicinati in maniera importante alla squadra e questo è quello che ci vuole per ottenere risultati. Purtroppo oggi è andata male ai rigori, se andiamo a vedere hanno sbagliato i rigori i giocatori che se li vedete in allenamento non sbagliano nemmeno sotto tortura, però abbiamo sbagliato i rigori, hanno sbagliato anche loro. Il nostro portiere per poco non prendeva anche l'altro rigore, però ci sta. Il Cesena è uscito fuori con l'ecco ai calci di rigore, per cui quando si arriva ai rigori può succedere di tutto. Le chiedo un'ultima cosa e poi la salutiamo, Presidente. Questa serata, questo finale di stagione ha riavvicinato anche un po' Daniele Sebastiani a lei, alla città di Pescara, ai tifosi del Pescara? Ma deve ravvicinare la squadra, la squadra deve avere il supporto del pubblico, non è Daniele Sebastiani che deve avere il supporto, perché Daniele Sebastiani se doveva aspettare il supporto sarebbe dovuto andare via tanti anni fa, invece è la squadra quella che ha bisogno del supporto e il pubblico ha risposto alla grandissima. A me va bene così, io non faccio il protagonista, non mi serve di farlo. L'importante è che i tifosi, che la città stiano vicini alla squadra, perché come ti ho sempre detto, questa società si chiama Pescara, non si chiama Sebastiani. Quindi se uno vuole bene al Pescara sta vicino al Pescara, fa delle giornate come questa e chiaramente questo pubblico qui aiuta, aiuta tanto perché un pubblico così non ce l'ha nessuno.